Luca, non sei pronto, non ti sei ancora cambiato, dai che comincia! Fabio, adesso sono pronto a giocare, e tu? Sono pronto anch'io, aspettavo te, comincia! Con Sky 3D entra anche tu in campo a San Paolo. Guarda la partita dalla panchina di Mazzarri. Napoli-Bayern di Monaco. Martedì 18 ottobre, 20 e 30. Non ce la fai? Adesso provo a prenderla, sai cosa, per in manco. Dai Luca, questa l'hai alzata a Roma. Sì, ma Fabio, a Roma era molto più leggera, eh. Ma va!